il corpo forestale fondato 200 anni fa è stato soppresso o meglio come c'è stato detto più dolcemente è stato accorpato l'arma dei carabinieri ma c'è da dubitare che i carabinieri presi da tanti altri impegni nazionali e internazionali possano intervenire a difesa degli alberi dei boschi e delle foreste poi non ci si improvvisa difensori della natura da un giorno all'altro occorrono decenni di apprendimento di esperienze di studio e il personale gli addetti al corpo forestale queste caratteristiche le avevano tutte molti di loro avevano studiato all'università delle scienze forestali secondo l'ex comandante giuseppe di croce il misfatto della soppressione del corpo forestale dello stato deve essere fatto risalire allo sciagurato decreto emanato a suo tempo dal ministro franco bassanini quando era al di castero della pubblica amministrazione egli senza consultare nessuno decise di regionalizzare il corpo forestale da qui l'origine di tutti i mali una sorta di bomba a tempo che è scoppiata ai nostri giorni franco bassanini insieme alla sua consorte linda lanzillotta meriterebbero di essere definiti la coppia cataclisma perché mentre lui operava in questo modo al ministero della pubblica amministrazione lei al comune di roma provvedeva a svendere la centrale del latte a tal sergio cragnotti imprenditore calcistico da qui l'aumento del prezzo basta pensare che un litro di latte oggi in germania costa 85 centesimi in italia quasi il doppio e la scadente qualità del prodotto che andata via via aumentando di croce come tutti i comandanti di poche parole ma quando parla è piuttosto efficace ha detto vi leggo il virgolettato la soppressione della forestale è un suicidio e presto ce ne accorgeremo ce ne siamo già accorti smantellano ciò che funziona per favorire le consorterie madia la signora marianna madia l'attuale ministro della pubblica amministrazione ha ascoltato queste parole senza batter ciglio i fatti hanno dato ragione al comandante quello che era un corpo specializzato di appassionati della natura è stato annullato addirittura impossibilitato a intervenire ad armandforte la protezione civile ai vigili del fuoco per spegnere gli incendi che hanno devastato recentemente il nostro territorio